Buongiorno a tutti, oggi presentiamo una cosa abbastanza particolare nel panorama del restauro che è stata da noi definita biorestauro. Iniziamo a vedere, faremo un percorso un pochino attraverso alcune considerazioni, attraverso alcune riflessioni per arrivare poi alla fine a vedere più da vicino cosa si intende per biorestauro. Io partirei dall'articolo 9 della nostra Costituzione. La Repubblica, si dice, promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Intanto dovremmo chiederci se questo è un nostro principio fondante della Repubblica per quale ragione i fondi legati al recupero del patrimonio storico e culturale siano calati recentemente. Da questa considerazione è nata un'iniziativa che ha unito il sottoscritto, la dita Oikos che ci ospita e che sponsorizza anche alcuni di questi eventi e HD System che è la produttrice degli intonaci con la quale lavoriamo. Qual è stata l'idea? È stata quella di interessarci in prima persona presso le sovraintendenze. Andare a vedere quali erano gli edifici ritenuti minori e poi andarsi a interessare, innescare un processo virtuoso attraverso il quale si è fatta una progettazione relazionata con la sovraintendenza e finalizzata a andare a reperire i fondi per poter restaurare questi edifici. Il tutto a costo zero per il committente. Questa iniziativa virtuosa che è collegata anche con l'attività universitaria che conduco, quindi con il laboratorio di restauro del Politecnico di Milano, ha portato a formulare un primo progetto che è stato inserito nella dodicesima e tredicesima settimana della cultura, quindi sponsorizzato dal Ministero dei Beni Culturali, proprio per la virtuosità dell'iniziativa. Il progetto in questo momento è in corso, quindi chi vuole venire a fare un giro a vedere il cantiere a Corte Sant'Andrea, frazione di Senna Lodigiana, è accolto con un bel caffè al Barli vicino e potrà vedere i frutti di questa prima attività. Sono in corso altri progetti iniziative, quello che vedete in blu è quello di cui parleremo. È in corso anche un progetto di restauro e riuso della canonica definito con protocollo di biorestauro. Sarà uno dei primi progetti a scala nazionale di questo settore. Prima di iniziare a raccontare alcune cose nello specifico, io vorrei definire alcuni termini. Quando parliamo di progetto, soprattutto nel riuso dell'edilizia storica, possiamo parlare di un insieme di operazioni che consentono di organizzare risorse scarse per ottenere un valido obiettivo. Nel progetto di restauro la risorsa scarsa è il passato. Dobbiamo confrontare con edifici che presentano dei segni, delle testimonianze che devono essere mantenuti, conservati. Quando parliamo di tutela, diciamo un insieme di interventi indiretti sul bene di interesse per ottenere la sua protezione. In questi vanno considerati anche gli atti conoscitivi che divulghino importanza di un bene. Quando facciamo rilievo, schedatura, censimento di un bene, indagine storica, sono tutti atti di tutela. Ieri abbiamo parlato di recupero dell'edilizia moderna all'ordine degli architetti di Milano. Dicevamo proprio che la fase conoscitiva iniziale è fondamentale per conservare un edificio. Parliamo di conservazione, noi intendiamo la conservazione come rimozione e ralentamento delle cause di degrado che inficiano la salute di un bene e bisogna considerare che questo atto non è una cosa che si fa una volta per sempre, ma deve essere esercitato nel tempo, è come una sorta di manutenzione programmata. E alla fine il riuso che è una sorta di redefinizione che deve essere condivisa in un progetto di un ruolo che si vuole attribuire all'edificio. Un uso compatibile, ne discutevamo poco fa, è il fondamento della conservazione perché dato un edificio storico sono possibili vari usi, alcuni usi sono del tutto incompatibili con la natura dell'edificio, altri usi invece favoriscono la sua conservazione. Conservazione e restauro sono due concetti che storicamente sono molto differenti e antitetici tra di loro. Tant'è che soprattutto nel restauro, ne ho elencati solo alcuni, ci sono diciamo veramente una serie di definizioni dal restauro storico, scientifico, filologico eccetera eccetera. Ognuno di questi approcci ha determinato esiti operativi molto diversi tra di loro. Qua è il caso di San Marco, tra l'altro ieri eravamo proprio vicino all'ordine degli architetti a San Marco, prima e dopo gli interventi di restauro di inizio novecento. Vedete sono due chiese che paiono completamente differenti tra di loro. Qua a San Simpliciano, prima e dopo gli interventi di restauro del primo novecento. In quel periodo era molto in voga il restauro stilistico e le trasformazioni che sono state fatte hanno completamente stravolto la natura degli edifici storici presenti. Non dobbiamo parlare di teoria del restauro, quindi non spavento nessuno con queste cose. Credo invece che però i tempi siano maturi per un nuovo approccio al restauro. Ce ne sono stati tanti. È un approccio che concigli la conservazione delle esigenze storiche con quelle della biocompatibilità, dell'utilizzo di materiali e tecniche esecutive che tengano in considerazione anche il contenimento energetico. Ecco che è stato definito biorestauro o restauro biocompatibile. In effetti la questione energetica oggigiorno ha determinato un punto di svolta nell'edilizia corrente in maniera meritoria perché tante edilizia che era ancorata su schemi tecnologici e su tecniche esecutive datate, si costruiva sempre con i mattoni forati, si costruiva sempre con la struttura in calcestruzzo, ha subito un miglioramento quantomeno di alcuni aspetti, di alcuni dettagli perché la normativa è obbligato al contenimento energetico, quindi inserire materiali isolanti, fare attenzione a come vengono fatti i muri di tamponamento esterno, ponti termici, recupero delle risorse energetiche eccetera eccetera. E questo diciamo che ne ha grande merito insomma la legge, però sta succedendo anche qualcosa di particolare. Il settore restauro e del riuso dell'edilizia storica sapete che è escluso da questa normativa perché giustamente si privilegiano gli aspetti, le testimonianze storico-culturali del bene. Però io sono convinto che nell'edilizia storica ci sia un grande insegnamento. Ieri definivo nell'ordine l'edilizia storica è un po' come il nonno e l'edilizia moderna è un pochino moderna, contemporanea, diciamo come il nipotino che va a trovare il nonno. Il nipotino che va a trovare il nonno deve rispettare il nonno perché il nonno ha una grande tradizione, ha una grande cultura, ha tanto da insegnare, ne ha viste tante di cose e ha stratificato nella sua memoria e nei suoi pensieri tante informazioni importanti. Andare a vedere un cantiere storico a mio avviso insegna tanto anche sull'edilizia contemporanea, insegna tanto alla bioarchitettura contemporanea. Il caso che vi viene presentato in queste quattro fotografie è un edificio, un hotel a Campodolcino che sta crollando, un hotel del Liberty dei primi del Novecento, stazione di posta sulla strada dello Spluga, edificio stupendo che lo stanno scientificamente facendo crollare per sostituirlo con delle bellissime villettine per fare andare i turisti nella stagione estiva. Peccato che non servano a niente. Allora andando a fare un sopralluogo perché la nostra idea era quella invece di proporre la sua salvaguardia, beh poi scopri delle cose che dici vabbè insomma non abbiamo inventato nulla. Questo tavolato che si vede in questa posizione è un tavolato fatto di cantinelle di legno, al suo interno sono contenute foglie secche, paglia, gusci di noce, perché viva Dio erano le cose che avevano lì. Uscivano, trovavano le foglie secche, trovavano la paglia, trovavano i gusci di noce. Ed era assolutamente intelligente non sprecare nulla, mettere assieme, perché questi materiali sono ottimi anche dal punto di vista della fonassorbenza, per cui chi stava nella camera accanto non sentiva nulla utilizzando dei materiali biocompatibili. Riporto sotto una citazione di Torsello. Dice una filosofia del quotidiano appredimento dove è smarrita ogni sicurezza del costruire il dopo, ma è rimasta ancora la prudenza di non distruggere il prima. Cosa significa questo? Significa che mentre si stanno cercando soluzioni che migliorano la costruzione del dopo, e ripeto in maniera meritoria, però solo il dopo ci dimostrerà se queste soluzioni sono buone o non sono buone. Si sta appunto pericolosamente diminuendo invece la prudenza di non distruggere quello che c'era prima, che invece ha già dimostrato di essere buono, di durare nel tempo e di avere, non solo, di risolvere le questioni di biocompatibilità, ma anche di durabilità. Assistiamo nei cantieri storici a una continua demolizione di materiali di proto-biodilizia, io li ho definiti, quindi incannucciati, intonaci a calce, legni stagionati, terre crude, cotti forgiati a mano e aggiungiamole finché ne vogliamo. Io penso per il fatto di non capire che in un edificio storico l'approccio che si deve tenere è molto diverso da quello della progettazione del nuovo e contemporaneamente si introducono nel nuovo materiali e tecniche e accorgimenti che in molti casi sono simili a quelli dell'edilizia storica, in alcuni casi in realtà sono peggiori, perché molti di noi sanno che quando si fa un cappotto di un certo tipo sull'edilizia recente poi la casa non traspira, bisogna aprire le finestre, si crea condensa all'interno degli ambienti e poi quello che si è risparmiato da un lato lo si perde dall'altro perché se devo arieggiare la casa la mattina per 15 minuti per togliere la condensa ho già perso il contenimento energetico. A sinistra le immagini sono di monito, quello è quello che sta succedendo al nostro patrimonio storico in alcuni casi. Guardate che cosa è successo alla chiesa di San Vittore vicino a Vigevano, questa è una foto del 1997, barocchetto eccezionale con interni affrescati, con esempi di uso di materiali eccezionale. Dieci anni dopo è crollata la copertura. Ricordo che cosa dice l'articolo 9 della nostra Costituzione. Dentro c'erano cicli di affreschi favolosi, questa è la situazione attuale, nel frattempo nel territorio vicino a Vigevano è stato cementificato tutto il territorio costruendo delle meravigliose villette a schiera. Allora io credo che la comprensione del patrimonio storico, soprattutto l'edilizia minore che viene erroneamente definita minore, era quella in cui era massimizzato il riuso di materiali. Sono fondamentali non solo per i valori culturali che questa rappresenta ma anche perché l'edilizia storica è di per sé la definizione di bioedilizia e quindi se noi su questo patrimonio andiamo a agire con un discorso di compatibilità estesa, cioè quindi di utilizzare dei materiali che hanno sia una memoria storica di lunga data ma soprattutto che aiutino. Ci sono dei materiali eccezionali anche moderni, ci sono delle coloriture, parlavo di oikos, oikos è una ditta che fa colori biocompatibili da quando è nata, ci sono intonaci eccezionali anche oggi assolutamente con materie prime naturali che ci possono aiutare invece a aumentare le prestazioni energetiche dell'edificio. Dobbiamo solo cambiare un po' di mentalità, facciamo un esempio rapido, non è che dobbiamo per forza sostituire un serramento dell'800 o del 700 con uno a triplo vetro con gas basso emissivi, ci sono soluzioni che possono affiancare a questo serimento qualcosa all'interno, quindi conservare quello e invece migliorare comunque massimizzare diciamo il contenimento energetico. Ripeto, in passato questa considerazione era prassi comune, massimizzare l'uso di tecniche e materiali locali, ridurre i consumi, gli sprechi, le emissioni di CO2, trasporto di cose che vanno avanti e indietro magari con distanze chilometriche e questo significa anche utilizzare una serie di accorgimenti che possono essere possibili anche oggi, cappotti in incannucciato, intonaci con calci naturali di buona qualità, fibre naturali, ho messo chiaramente coloriture naturali che consentono di avvicinarsi all'esistente attraverso la rivisitazione moderna di tecniche già usate tradizionalmente però alla luce di nuove tecnologie perché come è vero che c'erano delle grandi belle cose nel passato è anche vero che ci sono delle ottime cose anche attualmente, non dobbiamo vivere in un mondo diciamo astratto. Io porto un esempio perché già dal 2002 lavoriamo con questa finalità, questo è un edificio a Cornaredo qua vicino a Milano in cui tutta una serie di accorgimenti hanno aiutato a contenere, a migliorare l'efficienza energetica e a trovare delle soluzioni che nel rispetto dell'edificio storico si sono già mosse nell'ottica della biocompatibilità. Vedete a sinistra un grigliato in cotto che è tipico dell'architettura lombarda dei cascinali, il comune ci aveva chiesto di eliminarlo perché qua facevano una piccola sala assemblee l'idea è stata quella invece di tenerlo perché il grigliato nasceva come intelligente soluzione per schermare il sole, per fare passare l'aria, per migliorare l'efficienza di raffrescamento di un ambiente e quindi la conservazione di questo elemento che era importante dal punto di vista storico è diventato anche importante dal punto di vista energetico. Vedete il serramento è stato tenuto all'interno, in questa sala è comunque stata pensata l'aria condizionata ma quando fanno l'assemblee non la usano quasi mai. Questo significa risparmiare conservando anche la storia. Vedete che a pavimento era già stato pensato a quel tempo una candaia a condensazione e il riscaldamento quindi a pavimento. In questo caso si poteva fare perché c'era la possibilità di sollevare il pavimento. Con il nuovo progetto che stiamo facendo della Canonica dimostreremo ulteriormente che è possibile preservare la storia, il valore storico di un edificio ottenendo le finalità di contenere energeticamente i consumi e di utilizzare materiali biocompati. Dobbiamo appunto, e siamo già quasi alla fine, considerare l'entità del patrimonio storico antico e quindi però bisogna attivare una ricerca, una sperimentazione, fare dei cantieri pilota e con una ricerca anche universitaria in cui si testino materiali, tecnologie, tecniche esecutive che siano fondamentali per poter parlare in maniera compiuta di biorestauro. Ricordo che una delle caratteristiche di un intervento su un edificio storico è quella della sua compatibilità, della durabilità dell'intervento e della congruenza dell'intervento. Quindi quando andremo a intervenire su un edificio storico ci dobbiamo confrontare con materiali che hanno secoli alle spalle e quindi la durabilità dei nuovi interventi si deve confrontare con un periodo storico che non può essere quello dei dieci anni che dà adesso l'impresa come garanzia quando realizza un intonaco o altri interventi. Dieci anni nella vita di un edificio non è niente e quindi queste caratteristiche di biocompatibilità andranno testate e verificate all'interno di un edificio storico e questo sarà fatto in questo cantiere per cui rinnovo l'attenzione su questo aspetto e a venire poi a vedere questo cantiere. Ecco la canonica, l'ultima cosa, mi piace tantissimo che le immagini facciano vedere un edificio molto dimesso perché è molto bello parlare di edilizia minore perché adesso vediamo questo edificio con questi colori che fanno un po' sorridere messo in un paesino che sembra dimenticato dal tempo ma poi se ci andiamo a sfogliare il libricino vediamo che qua Ludovico di Belgioioso aveva fatto sede dalla quale faceva carteggi e in questo posto si è sposato con Caterina d'Este. Hanno fatto un arco trionfale in onore delle nozze e in questo luogo che è sulla via francigena quindi fondamentale punto strategico nel territorio era nato un primo modello di proto industriale però applicato all'agricoltura e era una cosa eccezionale ed fa un po' sorridere vedere che le cose che erano interessanti per Ludovico di Belgioioso nonostante l'articolo 9 della nostra costituzione siano in questo stato. Oggi fa sorridere perché è facile occuparsi del Duomo di Milano, è facile occuparsi di San Pietro a Roma o di altre cose e queste cose vengono dimenticate e stanno per crollare. A noi piace occuparsi di queste cose la sfida che abbiamo preso con OICOS e con HD System è quella di dimostrare che su una cosa di questo tipo si possono fare grandi cose utilizzando materiali storici. Questa sfida l'ha sposata una grande società di certificazione a livello nazionale e su questo edificio partirà uno dei primi progetti a scala nazionale e mi dà un'immensa soddisfazione vedere che è fatto su un edificio che oggi uno passa di lì e non nota neanche e questo secondo me è una grandissima soddisfazione. Qua qualche immagine all'interno, qualche materiale già anche in questo edificio così dimenticato un pochino dal tempo e dagli uomini che dimostra invece che anche in questo cantiere ci sono degli esempi di protobioedilizia quindi utilizzo di materiali biocompatibili e per concludere io sono stato molto sintetico, credo che restauro, riuso e recupero dei valori culturali si possono unire all'utilizzo di fonti rinnovabili con un attento uso di risorse, di materiali, di coloriture tradizionali determinando anche ridotti costi di gestione che non sono poco perché qui il parrocco, la parrocchia locale non ha una lira, vi dicevo che il progetto di restauro che stiamo facendo è a costo zero per la committenza, abbiamo trovato i fondi noi con questa iniziativa ripeto che è stata patrocinata dal ministero dei beni culturali e il parroco sta facendo da tramite, sta prendendo i soldi e li sta distribuendo alla DIT che stanno facendo gli interventi tra i quali appunto anche coloriture con noi, cose con HD System, le calci a costo zero per una comunità che come risorse sarebbe riuscita a mettere in piedi 1000-1500 euro questo vuol dire, ripeto, mi dà grandissima soddisfazione vedere che è un edificio ritenuto tra virgolette minore, ma se ci guardiamo in giro nei centri storici italiani e grazie ai centri storici italiani possiamo sostenere ancora che l'Italia è uno dei paesi più belli al mondo, grazie ai centri storici, sono fatti per il 99% di edilizia minore, quindi è un problema fondamentale e strategico per il futuro. Confido sotto che gli organi istituzionali sostengono questa importante sfida anche con una diffusione di questa iniziativa. Ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.